OTTIMO LAVORO Ottimo lavoro, questa feste. Ora devi solo consegnarmi i Miraculous. Balliamo! Carapace, proteggici! E... scudo! Pegasus, teletrasportati qui e trova come sentire questa. Mi scusi, glielo ridarò appena Parigi sarà salva. L'unica soluzione è essere imprevedibili, così non riuscirà a capire i nostri passi. Quindi... scateniamoci! Che state facendo? È assurdo! Che state facendo? Shaguar! Cataclisma! Ben fatto! Si ricomincia! Tira fuori la carta del livello salvato Sì, ma hai visto che si è toccato gli occhiali? Scommetto che la Kuma si trova lì Anche noi cambiamo livello Ok, ma ho ancora pochi minuti Io lo dirigo, tu tiri Perché non facciamo il contrario? Vuoi che facciamo testa o croce? Ok, tu dirigi, io tiro Attenzione! Ci sta attaccando! Inizio delle ostilità Huckbutter! Secondo round, gamer Fin quando Falena Oscura sarà una minaccia per le persone che amo Non potrà avere un ragazzo È troppo pericoloso Che cos'è quello strano liquido che le viene fuori dagli occhi? Sono lacrime! È così triste! Secondo voi dovremmo fare qualcosa? Abbracciatemi e basta! Alla prossima! Grazie a tutti.